Una paziente ricerca di centinaia di migliaia di capi in cashmere, un sapiente selezione di toni colore, una tecnica industriale di riciclo, ci permette di avere la migliore fra le fibre in cashmere rigenerato, da cui nasce questo prodotto certificato GRS, che permette un risparmio medio di acqua del 98%, di consumo elettrico dell'80%, di utilizzo di prodotti chimici del 50%, di emissioni nell'atmosfera di CO2 del 90%, di cui, tramite il cartellino da applicare il capo, è importante informare anche il consumatore finale. Quest'articolo, componente di molti filati fantasia, viene presentato a Stock Service in due titoli. Il 226 per la macchina 12 è molto adatto a rasanti compatti, punti classici, piccoli e moderni rilievi tridimensionali, molto utilizzabile nelle disegnature Jacquard o in Tarsio, anche per via dello Stock Service che non prevede quantità minime. Il titolo 212 per la 7, gonfio e morbido, è estremamente versatile per poter essere anche utilizzato a più capi su macchine grosse, su punti rilevati, sulle classiche coste inglesi, ottenendo aspetti e mani caratteristiche del Kashmir Soft. Il colore è campione, se compatibili con le materie prime usate, sono possibili anche se melange con un minimo di 50 kg.